L'Udu Teramo prende posizione in merito a questo finanziamento da un milione di euro per la scuola di alta formazione di Nico Romito all'Università La Sapienza. In realtà non è proprio una presa di posizione nei confronti di Nico Romito, è una presa di posizione nei confronti di un'elargizione di circa un milione di euro da parte della Regione nei confronti di un'attività di istruzione sempre, di ricerca però privata, quando comunque noi dobbiamo ogni anno, noi studenti, soprattutto anche noi rappresentanti che diamo voce a queste esigenze, dobbiamo elemosinare i soldi che servono per coprire le borse di studio. L'anno scorso, ad esempio, le borse di studio dell'Azio di Teramo, dell'azienda di diritto allo studio universitario di Teramo, erano appena della metà rispetto al milione di euro che si vuole elargire nei confronti del chef Nico Romito. Tra l'altro c'è una facoltà, una facoltà di enogastronomia proprio all'Università di Teramo, aperta a tutti gli abruzzesi. Esattamente, noi è questo quello che non comprendiamo, è proprio il fatto che si voglia investire al di fuori di quella che è l'istruzione pubblica abruzzese e quindi delle università abruzzesi. Nonostante in loco, qui a Teramo, noi abbiamo addirittura questi corsi di laurea che sono, tra l'altro, alcuni proprio nuovissimi. Quindi non capiamo come sia possibile andare a finanziare per un milione di euro un ente privato piuttosto che investire veramente nell'istruzione pubblica e far sì che queste facoltà possano esplodere in un vero e proprio ambito professionale come si vuole fare nei confronti di Nico Romito.